E' il primo aperitivo d'asporto? Sì, il primo aperitivo d'asporto. Che sensazione erito, poter ritornare a bere nei navigli dopo due mesi. E' bello, è bello, un piccolo momento di ricreazione. E' da asporto, giusto? Sì, quindi io posso anche prendere un cocktail e portarlo fuori, giusto? Sì, ok. Posso chiedervi se è già venuta un po' di gente a chiedervi qualcosa? Sì, io ho aperto dalle 8 e mezza alle 2 e mezza stamattina, ho fatto quattro caffè che si sono portati via, però ho fatto pochissimo. Ha detto che è già venuto qualcuno a chiedervi due spritz? Sì, sì. Cocktail d'asporto, giusto? Noi facciamo solo asporto. Quindi piano piano ci si ravvicina un po' al vecchio aperitivo, piano piano. Diciamo che cerchiamo di ricreare come prima la gente che sta nelle piazze in aria aperta e distante con consapevolezza. E' un po' un ritorno piano piano alla normalità. Con la bici, alle vecchie piazze, al caffè, ma bisogna che la gente faccia come oggi, che sta piano piano scaglionati e che si rispettino queste regole, perché all'inizio non è stata così. Sì, è un po' di libertà e giustamente di rivita, ritornare alla vita, ritornare alle normalità, alle cose da fare, mi piace molto. Sì, è un po' di libertà e giustamente di rivita, ritornare all'inizio non è stata così. Grazie a tutti.